buongiorno buongiorno cari radio ascoltatori e web spettatori per questa nuova puntata ormai manchiamo purtroppo da tre settimane di sang royal con il nostro alessandro de angelis ciao alessandro buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori allora prima di iniziare questa nostra diretta voglio ricordare a tutti voi la manifestazione del primo maggio a pesaro allora prendete nota poi anche nel sottopancio lo farò passare più tardi per avere delle informazioni collegatevi sul sito www.eventicivici.it ripeto www.eventicivici.it allora questa manifestazione sarà molto importante tra l'altro proprio questa mattina ho dato in diretta assoluta quanto pare perché siamo stati contattati anche da persone dalla sicilia della costruzione di un nuovo biolaboratorio a carini in provincia di palermo con finanziamenti del pnr r ma sarà un università l'università di pittsburgh americana e sarà gestita direttamente dagli americani con fondazione bill e melinda gates e anche della fondazione rockefeller quindi mi dispiace aver dato questa notizia però ora credo di muovere il deretano e iniziare la madre di tutte le battaglie la battaglia di pesaro primo maggio del 2023 quindi www.eventicivici.it e lì potrete ricevere le informazioni vi scrivete la newsletter e abbiamo praticamente 17 giorni per arrivare veramente in decine di migliaia quanto pare ho parlato con un organizzatore siamo veramente a decine di migliaia di persone che hanno dato l'adesione partiranno con partiranno con pullman treni mezzi pub mezzi privati stanno facendo praticamente dei mezzi di 4 5 persone che arrivano un po da tutta italia che fate conto che pesano 90 mila abitanti se riusciamo a essere in 50 mila persone io credo anche di più sarà veramente un successo e potremmo veramente far suonare il campanello d'allarme in tutta italia alessandro ho voluto fare questa precisazione perché importantissima certo aspettiamo la sigla o partiamo no partiamo parliamo pure io la sigla l'ho già mandata quindi siamo già in diretta a te la parola e di cosa ci parli oggi ma oggi parliamo un attimo di una tematica vista da un'altra prospettiva cioè dal punto di vista storico antropologico cioè il concetto di un dio creatore come è nato l'agnosi e l'ognosticismo che cosa sono per noi sappiamo bene si intende ci hanno voluto far intendere che si intende una conoscenza che al di sopra riservata a pochi eletti al di sopra di quella normale io poi tra l'altro a tivoli c'è stato ci stanno facendo una serie di puntate sull'ognosticismo sono andato sulla prima alla prima puntata sono andati subito a parlare di cabala del salti dimensionali e cazzate varie guardate sono dovuto uscire per 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 i tentativi di manipolazione che vengono poi da 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 deformazioni di eventi storici che hanno portato a far sì che eh nascesse questa cultura dell'agnosi eh completamente distorta e deformata come vedremo mh da da eh eventi storici che sono avvenuti circa cinquemila anni fa e che portarono tra l'altro a eh concettualizzare un eh non un solo dio ma due di un dio trascendente al di sopra di tutti e un dio creatore un demiurgo accompagnato eh eh da entità malvace come gli arconti eh quindi vissi come demoni responsabile della creazione eh del nostro universo facciamo prima un attimo un escursus antropologico perché noi siamo di di come poi nasce l'uomo e di come arrivare ad avere una eh coscienza di sé e a porsi le domande da dove vengo perché sono qui dove andrò dopo la morte domande che eh ci distinguono dalle altre specie animali ricordiamo che eh solamente sulla terra esistono dieci milioni di specie animali una di queste è l'uomo che ha avuto una evoluzione differente superiore rispetto alle altre specie animali ora eh l'evoluzione della vita su questa terra ha seguito eh la biochimica della carbonio in altri maneri è possibile che si sia sviluppata sul silicio ha seguito quella che è la nostra atmosfera la nostra gravità immaginiamo quindi noi siamo una delle dieci milioni di specie completamente diverse una dalle altre no? Pensiamo che ne so a i felini e i serpenti i memmi ma prima ancora c'erano i dinosauri quindi pensate come potrebbe evolversi in quanti milioni e milioni di possibilità la vita su altri pianeti con una gravità differente una chimica differente un'atmosfera differente dalla nostra è quello che ci distingue poi dagli animali perché anche loro comunque sia eh hanno una intelligenza è stato dimostrato questo attraverso tanti studi hanno la loro sensibilità loro per esempio eh il loro modo di pensare è fatto soprattutto per associazioni di immagini mentre mentre noi mh abbiamo eh strutturato una forma di pensiero attraverso la verbalizzazione attraverso quindi il parlare e e questo per dire poi per ritornare un attimo al tema degli alieni che ci stanno proponendo eh addirittura alieni governanti siamo governati identici questi eh alieni all'essere umano due braccio due occhi addirittura eh con sembianze umane indistinguibili da noi rettiliani eccetera eccetera questo solamente per dire che eh se ci sono altre forme di vita nell'universo e questo nessuno l'ha mai messo in dubbio eh potrebbero avere milioni e milioni di forme differenti da noi eppure guardate un po' questi eh governanti alieni che stanno cercando di mettere in campo per coprire i responsabili di cinquemila anni di guerre e di eh potere discriminante nei confronti della quasi pressoché totalità del genere umano eh sono identici a noi cosa inverosimile cosa eh è che ha portato all'evoluzione dell'uomo innanzitutto la eh l'assunzione della posizione retta questo è stato dovuto fondamentalmente come topotesi antropologica a due eh forse tre fattori quando l'uomo iniziò a scendere dagli alberi per prendere cibo eh questi due eh fattori quali sono stati? Uno il fatto che mh noi questo pianeta è sempre andato incontro a cambiamenti climatici no? Stiamo assistendo anche ultimamente a cambiamenti climatici eh che si stanno avverando sul nostro pianeta quindi eh se ci fu in una certa zona del pianeta un riscaldamento eh l'assunzione della posizione eretta a differenza della posizione su quattro zampe permetteva all'uomo di risparmiare energie perché in posizione eretta la quantità di raggi solari che arrivano sul nostro corpo sono nettamente minori e il nostro corpo attraverso eh la termoregolazione con il sudore permetteva di disperdere in posizione eretta e di dissipare meno energie e questo favoriva eh il fatto che si riuscisse a sopravvivere come specie perché a quel punto serviva meno cibo per poter mh per poter sopravvivere quindi questo è stato uno dei due elementi il secondo eh molto probabilmente fu il fatto eh che l'uomo che riuscì per primo a liberare due arti raccogliere il cibo e portarlo alle donne in stato di gestazione che erano facilmente eh essendo più lente nei movimenti con la pancia eh prede di eh dei grandi felini rimanevano nascoste tra gli arbusti e quegli uomini che riuscivano a liberare per primi due arti a portargli cibo mentre le donne rimanevano nascoste praticamente eh favorirono rapporti sessuali con questi uomini e quindi diciamo la topa è stato uno dei eh fattori determinanti per eh l'evoluzione eh umana ma eh basta pensare anche che ti devo dire che Stefano le famose misure no noi siamo frutto di un etaggio genetico eh novanta sessanta novanta perché l'uomo è attratto dalla donna genonica perché la donna con un seno grande riusciva a eh avendo più latte a disposizione a far crescere più sani la propria prole perché un bacino più largo novanta dava più spazio al eh lo sviluppo dell'embrione e quindi eh c'erano meno rischi di eh di aborti e quindi era facilitato il successo nel portare poi il parto a termine e quindi la donna poi ovviamente sceglieva il cacciatore l'uomo più forte per assicurarsi eh per assicurare un futuro alla propria prole oggi l'uomo il cacciatore più forte io spesso faccio post eh gli stiganti verso le donne è quello con il bagcomat eh a più zeri no non a caso sono le persone ricche che hanno a disposizione le donne più belle donne più giovani nonostante differenza d'età possiamo conosciamo tanti miliardari chissà perché hanno tutti eh belle donne tra nel loro harem e la poligamia tra l'altro eh è sempre stata una dei tratti mh dell'uomo l'uomo è antropologicamente eh stato sempre antropologicamente poligamo perché proprio per assicurare la sopravvivenza della specie a la specie umana si accoppiava poi anche con eh più eh donne anche se poi le società matrigineari ci hanno dimostrato che anche eh la poligamia esisteva non solo tra gli uomini ma anche tra le eh stesse donne adesso arriviamo un attimo a eh agli altri fattori che hanno portato all'evoluzione dell'uomo dopo la la posizione l'assunzione della posizione retta si formò un osso molto particolare che è l'osso ioide l'osso ioide è quell'ossicino eh apparentemente insignificante che invece è stato importantissimo perché perché ci ha permesso di poter parlare e quindi esprimerci con le prime forme di eh linguaggio comunicativo con altri uomini quindi essere della nostra stessa specie animale e questo ha fatto sì che eh ci fosse una evoluzione mh della nostra materia eh celebrale perché poi attraverso la comunicazione l'uomo si metteva in contatto con altri uomini e questo favorì per esempio le battute di caccia dove l'animale veniva circondato e le relazioni sociali quindi fu un altro eh grande mh fattore importante di questo eh di questo percorso evolutivo da parte dell'uomo ma eh la terza ancora più importante eh il terzo step che ha portato l'uomo all'evoluzione eh è stato il fatto che è diventato un nevoro e la scoperta del fuoco scoperta del fuoco data da da un milione e mezzo a eh mezzo milione di anni fa eh in Cina e abbiamo le prime tracce nel eh eh Zoukou eh di anni in Cina del fatto che l'uomo iniziò a eh ritroviamo le prime forme di eh di 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 accensione del fuoco da parte dell'uomo questo permetteva poi di eh bruciare le carni renderle molto più digeribili e eh passare dal eh a diventare onnivori permise lo sviluppo della nostra calotta granica da cinquecento centimetri cubi eh arrivò a circa duemila cinquecento eh centimetri cubi riaggionse il massimo mh della sua eh espansione quindi questi sono stati quattro step eh fondamentali a quel punto l'uomo iniziò poi a prendere coscienza di sé a chiedersi ma perché sono qui da dove vengo dove andrò eh dopo la morte e eh questo poi porterà alla fine ad eh una diciamo una evoluzione del pensiero che portò a concettualizzare il fatto che la nostra esistenza eh era da delegare ad un essere superiore che avrebbe creato eh il genere umano l'uomo. Oggi eh tutto questo eh vuole essere resettato con intervento, un esso intervento eh alieno che ha fatto sì che l'uomo diventasse un sapiens ovviamente è una grandissima appuntanata perché dovrebbero spiegarci queste persone che stanno portando avanti l'eugenetica attraverso la storiella, la favoletta degli eleni, creatori che hanno modificato il nostro DNA quando è avvenuto poi tutto questo perché eh che per centinaia di migliaia di anni tutto questo si sia sia stato tramandato oralmente non sta né in cielo né in terra e eh e quindi torniamo un attimo al concetto di Dio creatore no? Poi vedremo la storia dell'ognosticismo perché nascerà un eh dio trascendente e un demiurgo malvagio responsabile della creazione eh del del nostro pianeta. Noi eh abbiamo una energia che muove che si muove all'interno di questi corpi eh di eh materia. Se noi concettualizziamo eh la creazione da parte di un Dio dell'essere umano beh le persone che credono a questo Dio creatore dovrebbero spiegarci in che cosa sarebbe superiore a noi l'energia di questo eh di questa entità di questo Dio e perché poi crea queste specie viventi inserendole all'interno di eh corpi di materia. Cioè l'energia di questo Dio è superiore da un punto di vista qualitativo o un quantitativo alla nostra non sta eh nel cielo ed in terra. Come può un'energia essere migliore da un punto di vista qualitativo rispetto alla nostra energia o la nostra energia come può essere superiore a quella di un animale? è semplicemente diversa e questa diversità abbiamo visto perché si è sviluppata da un punto di vista antropologico attraverso eh l'espansione della calotta cranica e quindi eh abbiamo iniziato a porci tante eh tante domande su questo ma eh oltretutto se noi eh parliamo di di un Dio creatore no? Noi dovremmo andare ad analizzare per vedere eh che tipo di entità creatrice è questa che ha eh fatto questa creazione e eh dovremmo andare per fare questo dovremmo analizzare come è stata concepita questa creazione cioè eh uno per esempio questo Dio creatore avrebbe creato delle energie ex novo e non si sa come potrebbe eh averle create ciò che dal mio punto di vista la nostra energia immortale è sempre esistita e non è mai stata eh creata ed è eh immortale tra l'altro poi ho avuto un'esperienza avrebbe morta a diciassette anni ma di questo preferisco non parlarne ed è proprio a causa di questo fatto che eh all'università ho seguito il campo di studi demo etno-antropologico e storie delle storie delle religioni religioni dei popoli primitivi per cercare di dare spiegazione a eh tutto questo e dicevo allora questo Dio eh questo Dio creatore avrebbe inserito delle energie all'interno di questi corpi eh di materia dopodiché prendiamo ad esempio la terra il nostro pianeta questo pianeta è soggetto a innumerevoli catastrofi naturali cito esplosioni di supervulcani tra l'altro settantaquattromila anni fa esplose il supervulcano in Indonesia a Toba e lì abbiamo il famoso collo di bottiglia tornando al discorso degli alieni creatori no? Supervissero circa mille duemila individui in una piccola zona eh dell'Africa orientale e eh dopo quattordici mila anni quindi circa sessantamila anni fa l'uomo da quella piccola zona ripopolò poi tutti i continenti quindi rischiò eh seriamente di eh l'estinzione c'erano circa cinquanta milioni di individui che popolavano l'intera terra ne rimassero solo mille duemila e eh quindi se ci fu un eso intervento alieno prima ovviamente mh con questo famoso collo di bottiglia lì rimasero solamente questi individui che ripopolarono poi i continenti va a cadere tutta questa puttanata che ci stanno raccontando su questi eh alieni poi ci devono spiegare come come queste tutti questi racconti favolistici siano arrivati eh fino a noi ma non ce lo spiegano ovviamente dicevo esplosioni di supervulcani terremoti maremoti eh cadute di asteroidi cadute di eh comete ere glaciali siccità prolungate tutte queste catastrofi naturali che vengono ciclicamente sulla terra portano oltre eh a inaudite sofferenze da parte dell'uomo e a una diminuzione di cibo per cui l'uomo per legato alla sopravvivenza della specie alla fine è costretto ad ammazzare anche eh i suoi simili per poter cercare di sopravvivere quando la quantità di cibo diminuisce questo è uno dei meccanismi che poi ha portato eh a numerose guerre no o a migrazioni dei popoli che si vanno a scontrare con altri popoli quanto vanno incontro a siccità non c'è più cibo quindi portano a spostarsi in altre zone eh a rubare cibo ad altre persone per poter sopravvivere in questo caso quindi già questa creazione sarebbe una creazione malvagia perché eh non è che si è eh stato creato un Eden perfetto dove l'uomo non ha bisogno di mangiare per poter sopravvivere eh e questo pianeta è sempre stato legato a queste catastrofi naturali che hanno portato morte dolore e sofferenza eh al genere umano ma andiamo al secondo eh fattore sappiamo che ogni nostro organo è soggetto a innumerevoli malattie e oggi siamo in grado di curare grazie alla nostra evoluzione numerose malattie altre no anche se ci proviamo da tantissimo tempo ma immaginate voi che cosa voleva dire in quel periodo eh avere un'ernia si moriva tra eh atroci dolori eh oppure una frattura che si risaldava male erano numerose queste questi incidenti che portavano a far sì che l'uomo avesse eh fratture in ogni parte del corpo eh problemi abbiamo decine se non centinaia di malattie per eh per ogni nostro organo del corpo dal fegato il cuore i polmoni i reni quindi tutto è meno che perfetto questa creazione da parte di questo ipotetico eh Dio creatore che l'uomo a cui l'uomo ha delegato la sua esistenza ma quindi perché poi l'uomo si è andato ad autocostrarsi eh pensando che eh la la sua stessa esistenza sia stata da delegare a un essere al di sopra di lui perfetto che abbiamo visto che invece avrebbe fatto ha messo in gioco una creazione tutt'altro che perfetta e che genera dolore sofferenza a all'uomo sarebbe stata una creazione malvagia Stefano non certo una creazione benevola oltretutto le religioni che cosa ci dicono ma l'uomo eh Dio ha creato l'uomo per eh amore questo getterebbe eh nell'imperfezione lo stesso Dio perché perché eh Dio stesso avrebbe una esigenza non sarebbe perfetto non avrebbe tutto in sé in quanto già il fatto di voler dare amore verso qualcun altro eh vuol dire avere una eh una esigenza che non porterebbe eh nel eh nell'imperfezione non tutto sarebbe meno che un Dio perfetto allora come poi si è passati a concentualizzare un Dio trascendente e perfetto eh separato da un che che stesse al di sopra eh di un demiurgo responsabile di questa eh creazione per spiegare tutto questo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo salto indietro nel tempo torniamo ancora una volta alla eh l'ultima delle grandi catastrofi naturali che ci sono state le ultime in ordine cronologico sono lo Younger Dryas la piccola era glaciale e la caduta di un asteroide dodici mila novecento anni fa in Canada e lì abbiamo ritrovato eh praticamente la traccia di Los Danite fino ai Pirenei dal Canada ma in quel periodo ancora non c'erano non esistevano forme di scrittura quindi eh che siano state tramandate eh quella catastrofe che eh e quindi quella catastrofe fu responsabile di due universali non sta né in cielo né in terra la seconda è stata eh nel sei mila anni prima di Cristo quando un grosso blocco di ghiaccio si staccò la Laurentide eh dal Canada e innalzò eh il livello eh degli oceani e quindi dei mari e quindi il lago eh nero diventò il mar nero perché eh l'alzarsi poi delle acque del mediterraneo fece sì che eh molta quantità di acqua andò anche in nel mar nero e lì è infatti sono stati ritrovati molti villaggi che eh vivevano nelle rive dei laghi e che sono state poi eh sommerse ma ancora non abbiamo fino a questo momento forme di scrittura eh anche se un altro step importante poi fu la scoperta dell'agricoltura in questo caso parliamo di diecimila anni fa e che fece sì che molte civiltà diventassero stanziali proprio attraverso la scoperta dell'agricoltura questo è stato un altro step evolutivo insieme poi alla scoperta del eh di come forgiare i metalli la scoperta del rame che farà sì che dal neolitico si passasse poi all'età del rame in questo eh diciamo dai nostri studi abbiamo visto che i primi poi a forgiare per esempio le amirame furono proprio i kurgan i famosi annunna o annunachi o elohim eh della Bibbia l'ultima catastrofe che dicevo che è quella che a noi ci interessa e eh fu quella dovuta la caduta della cometa Barca del tremila centoventitré avanti eh Cristo in questo libro sei 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 la caduta degli angeli ribelli il marchio della bestia eh e nel libro che lo segue Lucifero il re Sumero tradito dal Signore vi facciamo vedere come in dopo la caduta di questa cometa esistevano già le prime forme di scrittura le abbiamo ritrovate furono elaborate dalle eh dalle cosiddette tavolette di tartari dai pittogrammi della scrittura Vincià in Europa eh abbiamo ritrovato le prime scritture nel protoelarmitico quindi nell'Iram che era a contatto proprio i kurgan vivevano nella cadena montuosa eh dei monti Zagros e da lì invasero poi la terra di Sumer la famosa eh Babilonia dove poi schiavizzarono parte della popolazione per eh bonificare i canali rendere le acque eh potabili eh per eh portare avanti poi l'agricoltura infatti questi eh kurgan erano dei nomadi e lì eh abbiamo la prima costruzione delle prime città stato e passarono ad una civiltà stanziale infatti abbandonarono poi l'uso dei cavalli almeno in parte per favorire invece i traffici commerciali attraverso i fiumi Tigri e Laufrate che eh dove furono costruiti dalle rive di questi fiumi proprio le prime civiltà eh le prime città eh le città stato di questi famosi a nonna allora partiamo un attimo dal libro del Apocalisse o rivelazione di Giovanni e vediamo come quell'evento è arrivato poi fino a noi attraverso eh il il cristianesimo Apocalisse tutti quanti hanno detto ma è un libro che racconta ciò che accadrà in futuro gli eventi futuri che avverranno tutt'altro questi libri sono una vera e propria eh dei veri e propri cronovisori questi come le lamentazioni i testi delle lamentazioni eh scritti i testi più antichi che abbiamo eh scritti dai sumeri e guardiamo iniziamo a leggere per esempio Apocalisse guardate come si parla della caduta di una cometa quindi di eventi passati risalenti a cinquemila anni fa invece che di profezie di cose che dovranno avvenire in futuro questa cometa la la coda di questa cometa passò sulla terra di Sumer sulla valle dell'Indo distrusse tutto quanto poi cadde nell'oceano indiano sollevò onde di tsunami alte oltre i duecento metri abbiamo ritrovato gli Chevron in Madagascar eh in Australia eh ovvero i sedimenti colline fatti dai sedimenti sabbiosi che eh si sollevarono dal fondale oceanico è stato ritrovato il cratere del largo ventinove chilometri con depositi di di conchiglie e quindi sedimenti marini a dimostrazione poi eh di come questa eh l'impatto di questa cometa eh sollevò enormi quantità di materiali di sedimenti che causarono questi Chevron e di come poi miliardi di tonnellate di acqua vaporizzarono nell'atmosfera ricadendo per giorni e notti e leggiamo che cosa successe in quel periodo chiudete gli occhi ragazzi e quello che stiamo per raccontarvi è una vera e propria cronostoria che mh stiamo aprendo un cronovisore sull'evento che poi verrà eh tramandato fino a noi attraverso il mito del diluvio universale immaginate quello che videro cinquemila anni fa i nostri antenati leggo testualmente eh dal libro da questo libro qui quando l'agnello aprì il settimo sigillo si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora vidi che ai sette angeli ritti davanti a dio furono date sette trombe poi venne un altro angelo e si fermò all'altare leggendo l'incensiere d'oro gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi bruciandoli sull'altare d'oro posto davanti al trono e dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a dio insieme con le preghiere dei santi poi l'angelo prese l'incensiere lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra ne seguirono ascoltate bene questi sono gli eventi che causarono la caduta della cometa bark ne seguirono scoppi di tuono clamori fulmini e scosse di terremoto i sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle appena il primo suonò la tromba grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra un terzo della terra fu arso un terzo degli alberi andrò bruciato e ogni erba verde si seccò il secondo angelo suonò la tromba come una gran montagna di fuoco una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare la cometa bark che cadde proprio nel nell'oceano ma grossi frammenti di questa cometa caddero anche in altre zone un terzo del mare divenne sangue un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto grazie alle onde di tsunami che si sollevarono il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella la grande stella è la cometa bark signori avete visto in tante raffigurazioni dove dicono guardate c'è un personaggio che si trova all'interno di un ufo nei quadri quella altri non è che la rappresentazione della cometa bark e di elli la cui poi fu eh data la colpa di questo diluvio universale la rappresentazione di quell'evento perché antropologicamente poi loro divinizzarono quegli esseri per pregarli per far sì che attraverso queste preghere eh esorci cercarono di esorcizzare i ripertersi di quell'infausto eh evento che eh per poco non eh fece sì che l'intero genere umano si eh estinguesse eh solo eh cande dal cielo una grande stella ardente come una torcia e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque il grande dragone che voi sentite nominare molte volte in Apocalisse in altri testi eh e il serpente facciamo il serpente l'abbiamo trovato anche per esempio nelle famose lampade di Dendera no? Che altri non sono che la rappresentazione poi di queste barche dove c'è il serpente che hanno voluto scambiare per una filamento che doveva accendere queste luci questo per farvi capire poi eh come mh lavorano con la fantasia i fautori eh della paleo astronautica beh il il grande dragone altro non era che la cometa Barcl questa cometa aveva una lunga coda quella coda era il serpente il famoso eh l'antico serpente di cui si parla in Genesi e quando girò intorno alla Terra la coda di questa cometa si sdoppiò in due parti ecco perché poi ritroviamo addirittura in molte raffigurazioni eh due serpenti che si incrociano eh tra loro ragazzi la stella si chiamava assenzio la stella assenzio ragazzi è la cometa Barclay un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono per quelle acque perché erano diventate amare ce ne parlano anche i testi delle alimentazioni perché eh le acque ovviamente si imputridirono di tutto il materiale che vi cadeva dentro il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito e si oscurò il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente vidi poi eh e udì un'aquila che volava nell'alto del cielo e gridava buon voce guai 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 agli abitanti della terra al suono degli ultimi squidi di tromba che i tre angeli stavano per suonare il quinto angelo suonò la tromba e vide un altro eh un astro caduto dal cielo sulla terra quindi un astro caduto dal cielo sulla terra la cometa Barclay signori gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso ed egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande formace che oscurò il sole e l'atmosfera perché perché ovviamente poi eh tutto il materiale che si sollevò avete sentito i boati eh tutto quello che accadde oscurò completamente il sole e la luna da lì abbiamo il mito del sole nero della luna nera che è arrivato poi fino a noi tutta eh la simbologia esoterica poi no esoterica tutti simboli nati da proprio da questo da questo evento qui siamo sui testi delle lamentazioni i testi più antichi che abbiamo a disposizione non li trovate in Italia abbiamo avuto tradurli eh dal dall'inglese li trovate nel nostro libro già tradotti guardate la distruzione si parla della distruzione di tutte le città stato di Sumer eh prendiamo ancora qualche spunto per farvi capire che cosa videro quelle persone quando eh scoppiò cadde questa questa cometa dopo che la foschia si fu sollevata a mezzogiorno accese i fuochi ha rinchiuso la giornata il sorgere del sole splendente insieme alla buona tempesta la terra non lasciò sorgere il sole splendente brillava come la stella della sera nella notte deliziosa il tempo in cui si fa freddo ha raddoppiato il vento del sud praticamente tutto il materiale che si sollevò eh il giorno diventò notte ci dicono che la eh il sole diventò la luce del sole fiocca piccolissima come quella di una di eh di una stella quel vento che arrivò era il vento di queste grossi frammenti della della cometa che cadevano sulla terra esplodevano il sessanta settanta per cento riportiamo tutti i nostri studi delle persone morì per esplosione di or degli organi interni grazie al eh le onde d'urto che generavano l'esplosione di questi frammenti della cometa e quando la cometa cadde nell'oceano indiano dal sud si innalzò un vento fortissimo che il famoso eh vento malvagio del sud di cui ci parlano i testi sumeri che poi eh arrivò fino alla terra di sumere insieme a eh alle onde di tsunami i cocci roventi facevano brillare la polvere la gente gemeva ha spazzato i venti sulle persone dai capelli neri le persone gemono sumer è stato rovesciato da un laccio la gente geme la terra l'ha divorata completamente le lacrime non possono influenzare la mara tempesta la gente geme questi sono i testi originali dei sumeri ragazzi la tempesta mietitrice si trascinò attraverso la terra come una tempesta di inondazione è completamente distrutto la città la tempesta che annienta la terra ha messo a tacere la città la tempesta che farà svanire qualsiasi cosa è arrivata facendo il male la tempesta che ardeva come il fuoco svolse il suo compito sulle persone la tempesta ordinata da ellil coodio la tempesta che logola la terra copriva l'urim come una veste si stendeva su di essa come lino poi la tempesta fu rimossa dalla città quella città era ormai ridotta a cumuli di rovine è stato rimosso dalla città di padre nanna nanna era un figlio di ellil ridotta a cumuli di rovine la gente geme poi la tempesta è stata portata sulla terra la sua gente disseminava i suoi dintorni come se potessero essere frammenti di vaso erano state fatte brecce nelle sue mura la gente gemeva sulle alte porte della città dove erano state fatte passeggiate i cadaveri erano ammucchiati sui suoi viali dove si erano svolte le feste le teste giacevano sparsi in tutte le sue strade dove erano state fatte passeggiate i cadaveri erano ammucchiati nei suoi luoghi in cui si erano svolte le tas delle danze della terra le persone erano ammucchiate hanno fatto scorrere il sangue della terra e negli uadi come ragno e come stagno ora nei suoi cadaveri come il grasso lasciato al sole si sciorsero da soli le altre temperature che sfrigionavano queste eh questi grossi frammenti della cometa generavano un calore intenso che eh praticamente faceva addirittura liquefare i corpi delle eh delle persone l'intera foresta dell'Elam andò distrutta e nei testi troviamo Ninurta uno dei eh figli di Ellil che con la sua mazza tra l'altro mazza di pietra eh distrusse polverizzò l'intera terra dell'Elam praticamente furono dei figati quei alcuni personaggi degli Anunna eh come Ellil e i suoi discendenti mentre altri furono demonizzati cioè Adamo che diventerà Luciferone e Tardo Cristanesimo Marduk a Babilonia perché ci fu un conflitto tra queste due fazioni e l'elite eh degli Enchiti e i vincitori subirono un processo di deificazione mentre furono demonizzati i perdenti a cui poi fu data la responsabilità eh di tutto di tutta questa eh distruzione quindi capite bene che il pregare poi eh Ellil eh questi personaggi aveva una funzione eh di esorcismo eh affinché non si vedesse ripetesse più questo eh questo infausto evento ma andiamo ancora a leggere tutto quello che è successo. Adesso andiamo sui testi eh perché anche qui c'è molto da dire no sui testi verici andiamo nel barata guardate che cosa si dice anche qui hanno voluto fare il riferimento ai bufalari della pariastronautica a guerre tra alieni perché nel Arapa Moenjodaro sono state ritrovate scie di vetrificazione sui terrazzamenti e beh eh cari miei quelle strisce di vetrificazione sono state dovute a le scie di questi frammenti della coda della cometa che vetrificavano grazie ad altissime temperature e pressioni tutto al loro passaggio non a a darmi laser come vogliono farci intendere coloro che vogliono resettare le religioni la nascita delle religioni da quelli fa questo evento con eh una nuova religione a base di alieni a supporto del eh di questo eh del nuovo ordine eh mondiale. Leggiamo cosa dice il ma barata. Gurka volava su un veloce e potente rimana. Scasliò un singolo proiettile caricato dal potere dell'universo. Quel proiettile ragazzi alla cometa Bark un incandescente colonna di fumo e fiamme lucente come diecimila soli si alzò in tutto il suo splendore. Era un'arma sconosciuta un fulmine di ferro un gigantesco messaggero di morte che ridusse in cenere l'intero popolo dei Riznish e degli Andakasas. I corpi furono così bruciati da diventare irriconoscibili. I capelli e le unghie caddero. Il vasellame si ruppe senza una causa. Gli uccelli divennero bianchi. Dopo alcune ore tutte le ricerve di cibo divennero infette. Per fuggire a questo fuoco i soldati si gettavano nei fiumi per lavare il loro stessi e le armature in un altro passaggio. In un altro passaggio leggiamo. Dense frecce di fuoco come una grande doccia infuocata emesso dalla creazione colpì l'intero nemico. Queste frecce di fuoco erano queste pietre che troviamo nei testi delle elementazioni che cadevano. Una densa oscurità si insinuò rapidamente sui Pandava. Tutti i punti cardinali furono avvolti dall'oscurità. Cioè praticamente diventò buio ragazzi. Un vento tremendo cominciò a fischiare. Le nubi si addensarono e ruggirono mandando tutto con ghiaie e polvere. Gli uccelli gridavano come impazziti e tutti gli elementi del creato furono turbati. Il sole sembrò oscillare nel ciclo. La terra tremò e si spaccò. Ovviamente ci furono numerosi terremoti quando la cometa colpì il fondale dell'oceano. Bruciata anch'essa dal terribile carore di quell'arma. Gli elefanti bruciarono nelle fiamme. Corsero ovunque in bizzariti. In una vasta aria tutti gli animali caddero e morirono da ogni punto cardinale. Le frecce infuocate continuavano a cadere ferocemente. Colui che è scappato è stato travolto dalla tempesta. Il debole e il forte di Urim morì di fame. Madri e padri che non lasciavano le loro case furono consumati dal fuoco. I piccoli sdraiati in braccia le madri venivano portati via come pesci dalle acque. Sono testimonianze incredibili di un evento che è arrivato fino a noi perché in quel periodo furono elaborate proprio le prime forme di scrittura. Tant'è che Tito Flavio Giuseppe lo storiografo ci racconta che Adamo mise tutto per iscritto a causa della distruzione dell'universo che era la terra che in quel periodo loro conoscevano a causa del fuoco e poi dell'acqua. E lo scrisse su una colonna di mattoni ed una di roccia affinché poi quelle testimonianze rimanessero anche nel futuro. Adesso arriviamo a noi. Queste persone che videro questa tremenda catastrofe, videro morire i loro figli, gli uccelli non riuscivano più a volare, a prendere il volo, ci viene detto nei testi perché arrivava questo maligno vento fortissimo da sud. Che cosa pensarono? Iniziarono a pensare ma è possibile che un Dio abbia potuto fare tutto questo? Abbia potuto generare tutta questa inaudita sofferenza verso il genere umano. Ed ecco allora che iniziarono a concettualizzare che questa creazione, questo mondo fosse imperfetto, fosse un mondo di dolore, di sofferenza e questo dolore e sofferenza era da imputare a Dio, ma a quel punto non avrebbe avuto più una funzione positiva questo Dio nei confronti dell'essere umano che aveva creato e quel Dio diventò un demiurgo. e al di sopra di questo demiurgo doveva esserci un Dio invece perfetto che non era responsabile di si fatta catastrofe e di tutto questo spaventoso generarsi di dolore e sofferenze da parte dell'uomo. nel 629 avanti Cristo Stefano che cosa successe? Successe che, perché poi tutti questi personaggi furono deificati e demonizzati, nel 629 fino a quel periodo, lo stesso Akhenaton, le religioni erano politeistiche, cioè si ammetteva l'esistenza di più Dei, tant'è che erano più personaggi che vennero deificati. Il Dio Sole Aton, ad esempio, venne messo da Akhenaton per importanza lì sopra degli altri Dei, ma non fu un tentativo di monoteismo, cosa che fece invece il re Josiah quando uccise tutti i sacerdoti del culto di Bal. Bal fu la deificazione di Nimrod, Dio Sole. Nimrod era figlio di Kush, figlio di Kam, figlio di Noè. Noè, Ziusudra, regnava nella città di Shurupak, tra l'altro un'altra città-stato delle città sumere era Sippar o Nibiru, famoso Nibiru, il decimo pianeta, però questi ignoranti non conoscono i testi delle lamentazioni, quindi non sanno neanche che Nimrod, quel decimo pianeta, era in realtà una delle città-stato di questi sumeri. Dicevo, Josiah impose il monoteismo solamente su il fratello di Nimrod Bal, ovvero Avila, e uccise tutti i sacerdoti del culto di Bal. Quando questi tentativi di monoteismo, di enoteismo, servivano soprattutto a una cosa, a far sì che tutte le offerte che il popolo portava venissero poi accentrate nelle mani solamente di questi sacerdoti che tolsero potere ad altri sacerdoti, quelli degli attoratori del culto di Bal. Però a quel punto si creava un problema. Quale problema si creava, Stefano? Con l'ognosticismo, praticamente, si era creata una dualità tra un demiurgo responsabile di tutte le azioni cattive, malvagie, la sofferenza del genere umano e un dio trascendente. Ma se nel momento in cui viene fatto il tentativo di monoteismo e viene detto esiste un solo dio, beh, allora quel dio, però, torniamo al problema originario, deve assorbire anche le caratteristiche negative del demiurgo. Riuscite a capire? E quindi quel dio non diventava più funzionale all'uomo. E qual è le scamotagge che usarono per superare tutto questo? Vediamo se ci arriva qualcuno dei nostri ascoltatori. Ah, proprio così di botto? Allora, abbiamo dato una domanda stimolante. Sì, 29 avanti Cristo. Il re Giosia impone il monoteismo su Avila, un pronipote di Noè. A questo punto, con il passaggio dall'enoteismo, dal politeismo al monoteismo, questo dio deve assorbire sia le caratteristiche del dio trascendente, sia del demiurgo. E quindi questo dio non sarebbe stato più funzionale al genere umano. risposta di botto. Aspetta, 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 Tidio. Come è da questo problema? In passaggio. Dai, Tidio, dato che hai la risposta, prego. La risposta di botto è mistero della fede. No, grazie Alessandro. No, allora, do la parola a Fed, se lui la sa, se vuoi rispondere. Fed? Stefano, la mia risposta sarebbe troppo lunga. Preferisco che Alessandro continui. Allora, aspetta, allora Elisa, tu la sai la risposta? Adesso che vi do la risposta, schizzerà. Aspetta, abbiamo anche L che ha alzato la mano. L? Ciao, buongiorno a tutti e grazie della trasmissione. Prego. Faccio comunque i complimenti a De Angelis che sto approfondendo, sto leggendo dei suoi testi. Io non ho capito bene la domanda, non ho capito se era relativa al monoteismo cristiano-sattolico oppure all'ebraismo, chiedo questo. Al monoteismo, signora. Al monoteismo in senso generico, non era così. Il monoteismo nel 629 impose il monoteismo su Yahweh, che altri non era che Avila, un pronipote di Noè. A quel punto il monoteismo si pose un problema importantissimo, perché loro, per giustificare tutte le sofferenze causate da questi continui catastrofi naturali che ciclicamente avvengono, avevano concettualizzato un demiurgo, un dio responsabile della creazione di questo mondo imperfetto, ed un dio trascendente, invece, perfetto, a cui poi la nostra scintilla divina, la nostra energia, si sarebbe riunita dopo la nostra morte. Ma con il passaggio al monoteismo, a quel punto non si creava un problema, non sarebbe più esistito un dio trascendente ed un demiurgo. Era un unico dio, ma questo unico dio doveva inglobare nella sua esistenza anche questa creazione malvagia, il dolore e la sofferenza che genera dal genere umano attraverso questa creazione sbagliata. Quindi il monoteismo a quel punto non sarebbe stato più funzionale verso l'uomo nel momento in cui ingloba anche le caratteristiche negative e di imperfezione del demiurgo. Quindi come riusciranno poi, quale fu il meccanismo con cui superarono abilmente questo problema? Do la risposta io, Stefano? Forse, forse con, non lo so, l'abbiamo buttato lì, perché proprio sono assolutamente un profano, con l'idea del malvagio, del demonio? No, il demonio, il malvagio, il demiurgo, non lo so. Si faceva parte del trascendente, no? Vabbè, allora, aspetta, aspetta. Forse aspettiamo ancora? Posso dare una risposta, forse? Vai, vai, ecco la risposta. Io so che c'è stato comunque un capogolgimento, di volta in volta, cioè a seconda di quale esponente, diciamo, di queste caste, chiamiamole così, emergeva, e questo non solo nel mondo ebraico, chiaramente, c'era un capogolgimento, no? Quindi, chi era il Dio buono, tra virgolette, nell'epoca, dell'epoca precedente, diventa, o veniva demonizzato, o veniva, diciamo, quasi rimosso, no? Però andiamo alla risposta, perché sennò poi è vero. Ecco, dai, mi sembra che sia semplice, io non la so la risposta. La risposta fu la nascita, la creazione, l'invenzione del peccato originale. Peccato originale di Adamo e Eva, che poi a quel punto si diede la colpa all'uomo che aveva trasgredito gli ordini di Dio e quindi è per questo che il mondo divenne il perfetto. E adesso però abbiamo un problema. No, aspetta, aspetta, vi chiamo io, ragazzi, vi chiamo io, vi chiamo io. Andiamo avanti, andiamo avanti ancora un po', poi lasciamo... Aspetta, aspetta, e chiudi il microfono, andiamo avanti e poi lasciamo la parola a voi che siete un bel po' di persone. Prego. Durante noi siamo partiti proprio da quella, dagli studi di comparazione interdisciplinare dei sumeri, egizi, la nascita delle religioni, siamo arrivati fino a Gesù. Ora, quando le religioni quindi erano fino a quel momento ancora c'era questa dualità tra le religioni gnostiche e la religione monoteistica che voleva imporre poi Giosia con il suo Dio unico, no? Che cercarono di salvare con la creazione di questo peccato originale, devolvendo poi imputandola alla disobbedienza dell'uomo verso Dio. In quel caso poi il Dio responsabile del dirù abbiamo visto che ritroviamo in Genesi fu Elil, poi ci sono anche altri dei nel racconto di Genesi, li svediamo tutti quanti nei nostri libri, legati al peccato originale, ma ne facevamo già una puntata sul peccato originale. Sì, sì. Se vi ricordate, magari se tu crei una playlist delle nostre puntate possono... Hai ragione, hai ragione, sì, sì, facciamo... Hai ragione, hai ragione, facciamo una playlist nei prossimi giorni. Il problema nacque poi con Gesù e qui arriviamo poi alle ultime nostre scoperte storiche, alla deificazione dell'ultimo Kurgan, discendente Kurgan, perché perché se tutto ciò l'ognosticismo che cosa diceva? Che tutto ciò che è materia è impuro perché è creato dal demiurgo. Ok? E alla nostra morte, la nostra energia liberata andrà a confluire nel Dio trascendente. Invece loro cosa fecero con il cristianesimo Paolo di Tarso? Crearono una resurrezione carnale su Gesù. Gesù dopo la sua morte risorse nella carne. Fu visto mangiare, bere con 500 persone, ce lo dice lo stesso Paolo di Tarso, interagì con loro di tutto e di più. E quindi gli ignostici per questo motivo attaccarono la figura di Gesù perché non potevano concepire una resurrezione nella carne perché quella carne era impura in quanto creata dal demiurgo. riuscite a capire il meccanismo. Ecco perché poi la Chiesa sterminò le cosiddette sete degli ebioniti catari chiamate ignostiche che non potevano accettare la deificazione di un Gesù che era risorto nella carne. Ok, ragazzi, abbiamo fatto, tra l'altro stiamo andando avanti con il libro è finito, siamo in correzione dei bozze, il libro oltre il velo di Iside, ci sono delle scoperte a livello storico di livello internazionale ragazzi e spero che saranno in molti a leggerlo perché si capirà per la prima volta la funzione del cristianesimo come è nato come la collusione con l'impero romano che ci fu la nascita della Chiesa i primi papi chi erano ci sono tante di quelle notizie oltre a Cleopatra madre di Maria da mettervi le mani nei capelli apriamo la discussione apriamo le domande mi ha messo tanta carne al fuoco anche oggi è il problema che dovrei farti tante domande io ma non posso altrimenti non lasciamo la parola al pubblico lo so che non c'entra tanto col tuo studio però mi interesserebbe non in questa trasmissione magari più avanti fare un approfondimento sul dio Moloch e i Cananei va bene ne parleremo ne parleremo prossimamente ecco sarebbe sì una cosa dobbiamo andare su un'altra tematica la famiglia di Yahweh abbiamo pubblicato il libro svelando Moloch era era sempre il dio Bal poi tra l'altro ecco anche se ci sono versioni discordanti dove dicono che Bal era il dio della pioggia invece Moloch era il dio del fuoco Bal Adad va bene dai no lasciamo la parola al nostro ascoltatore altrimenti allora Fed abbiamo Fed Fed ecco me ciao Fed poi aspetta dico Fed poi abbiamo Elisa che non l'avevo lasciata prima L e Dario allora e buonanerà a tutti innanzitutto io volevo dire che vi è tutto ringraziare Stefano per dare spazio a De Angelis che mi ha dato tante conferme in un percorso mio di ricerca che è durata più di dieci anni la mia domanda è questa perché la domanda vorrei se è una conferma o no dalle mie cioè da quello che ho capito io fondamentalmente Gesù essendo di linea di sangue faraonica ha provato a mettersi contro contro l'ordine verticale che vigeva allora vi è ribellato alla sua stessa diciamo discendenza antica e il processo che è stato fatto alla sua figura è stato un processo che io definisco a canone inverso cioè di base diciamo che è il trattamento che viene riservato a chi effettivamente ha provato a cambiare le cose quindi volevo semplicemente la conferma se il personaggio e il messaggio è un discorso quello che hanno costruito in seguito per le ere seguenti basandoci poi la religione una religione è effettivamente quello che è quindi è uno stravolgimento totale di quello che lui effettivamente predicava se effettivamente è vero che lui si ribellò a questa sua linea di sangue che deriva sempre dai faraoni così poi per quanto riguarda quello che studio io si sono evoluti nella nobiltà e poi si sono evoluti nei cavalieri templari e nel 1600 si sono stabiliti nel 1291 sono spariti per fondare la Svizzera e dalla Svizzera fondamentalmente dominano tutto il mondo ancora oggi grazie Stefano a avere uno spazio grazie a te allora quando noi parliamo di Gesù e della sua famiglia stiamo parlando non di ebrei ma di israeliti sono due cose completamente diverse due etnie completamente diverse abbiamo già detto che Jerusalem Zion o Zion fu costruita dagli Ixos e ho riportato le fonti storiche di questo Manetone Ceremone e Lisimaco sono tre fonti indipendenti del primo millennio avanti Cristo ed erano allevatori di capre agricoltori che seguivano i grandi costruttori i grandi costruttori sono i Kurgan da cui arriviamo fino agli israeliti e poi fino a Gesù e Gesù era un discendente degli israeliti abbiamo sviluppato tutta la genealogia di Gesù da parte di Maria fino a Cleopatra e quindi poi anche la genealogia che ci porterà a svelare Gesù come discendente addirittura del re Dario II di Cerse e di tantissimi altri personaggi oltre che arriviamo fino ad Alessandro Magno anzi a Tolomeo I che era fratellastro di Alessandro Magno perché Tolomeo I non era figlio di Lago ma era figlio di Arsinoe e di Filippo II re di Macedonia che mise in cinta mi sembra Brutarco racconta la storia mise in cinta Arsinoe dopodiché la fece sposare al re dei Lagidi con la forza stiamo parlando Gesù e la sua famiglia di Giudeo Alessandrini vivevano ad Alessandria di Egitto dopo la cospirazione che ci fu da parte di Maria Teuda Giuseppe Doris cugini del re Erode del Grande contro i re Erode questi personaggi innanzitutto prima come discendenza appartenevano alla classe degli Onia dei Boetusiani che vivevano ad Alessandria d'Egitto e proprio in Egitto torneranno in lì ad Alessandria d'Egitto Gesù apparteneva ne parliamo nel libro poi tra l'altro oltre il velo di Iside portiamo anche delle fonti archeologiche ritrovamenti importanti che sono stati fatti apparteneva alla comunità dei cosiddetti terapeuti o nazorei avevano una grossa conoscenza nelle arti tra virgolette magiche o mediche proprio attraverso le piante ed era molto particolare il fatto che le società che svilupparono questi terapeuti tra cui quella di Gesù di Giovanni Battista era un ritorno alle cosiddette società matrilineari o meglio conosciute come matriarcali che esistevano prima dell'avvento dei Kurgan quando questo gruppo di guerrieri poi sottomise l'intera umanità dividendo in stati il nostro pianeta e riuscendo a dominare tutti i popoli grazie all'usura del prestito grazie alle religioni e grazie all'organizzazione militare che si diedero nel libro di Enoch vengono chiamati esseri altissimi noi abbiamo usato il testo più antico il libro di Enoch il testo amarico di Enoch Enoch altri non era che M. Duranchi uno dei re sumeri l'unico tra l'altro di cui è stata ritrovata abbiamo attestazioni archeologiche perché è stata ritrovata anche la tomba e il suo Apkallu ossaggio che affiancava questo re M. Duranchi dalla storia dell'Apkallu siamo riusciti a stabilire che altri non era proprio che Enoch figlio di Caino loro fecero un ritorno a queste società matri lineari o matriarcali distrutte dai Kurgan mettendo a disposizione di tutta la comunità i loro beni non esisteva chi aveva di più e chi aveva di meno abbatterono in maniera viscerale la struttura piramidale di potere che questi grandi costruttori avevano costruito in quei 3.000 anni dal 5.000 fino all'anno zero la nascita di Gesù Gesù nacque nel 5.000 avanti Cristo quindi da questo punto di vista fu una rivoluzione che andò contro il potere che si era costituito nell'arco di quei 3.000 anni e in questo diamo ragione a quello che dice il nostro ascoltatore diverso invece è il cristianesimo dal gesuanesimo dove con Paolo di Tarso ci sarà invece la deificazione di un Gesù risorto e un allaccio con il potere di Roma e abbiamo ritrovato tutti i personaggi con cui ebbe relazioni Paolo di Tarso consoli proconsoli senatori prefetti delle guardie imperiali dove questi personaggi furono impelagati addirittura i primi papi vi svediamo chi sono furono impelagati nell'omicidi di imperatori citiamo Caligola citiamo Claudio citiamo Nerone citiamo Domiziano le nostre scoperte storiche quelle che troverete nel libro oltre il velo di esite ragazzi è qualcosa di pazzesco che ricostruisce interamente la storia del cristianesimo svelando personaggi che sono stati per duemila anni avvolti nel mistero nell'ombra quando voi sentite Paolo di Tarso specialmente nel capitolo 16 di lettere ai romani salutare saluto erodione mio parente saluto questo saluto questa sono tutti personaggi realmente esistiti che sono stati santificati personaggi che sono stati implicati poi addirittura lo stesso Papa Clemente con la sua famiglia nelle omicidi di imperatori probabilmente per si allearono con i patrizi e i consoli romani per la restaurazione della Repubblica e quindi in funzione antiimperiale andiamo avanti con le domande allora sì allora do la parola Elisa allora aspettiamo un attimo perché prima ha avuto dei problemi Elisa apri il microfono Elisa ci sei? allora Elisa la richiamerò dopo L buongiorno abbiamo parlato prima però poi allora aspetta l chiudi abbiamo Elisa prego Elisa da dove chiami? dalla Spagna ciao Elisa sotto il sole della Spagna beata te scusa scusa Elisa ti sento male perché non so se sei al mare beata te però ecco allora Alessandro De Angelis ecco con chi prego 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 lisa pronto? sì buongiorno buongiorno sono Giancarlo che parlo su di Milano ma ecco Giancarlo una cortesia io non so dove ti trovi però se puoi spostarti perché non ci sentiamo rumori di sottofondo c'è un po' di rumore hai ragione ma sposto di sottofondo grazie ma vogliamo parlare a proposito del monoteismo il monoteismo non nasce con la riforma di Giosia del re Giosia nasce dopo la cattività babilonese quando loro riscrivono la Bibbia e mettono dentro il monoteismo e mettono addirittura la parola Dio che prima non esisteva la riforma di Giosia è ricordata perché gli israeli potevano riscattare i loro primogeniti con del denaro dal tempio invece di passare per il fuoco tant'è che poi Giosia cercò di eliminare tutte queste cose che aveva fatto che c'era scritto nella Bibbia dove si aspetta Giancarlo 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 scusa un attimo tu hai detto una cosa di riscattare i primogeniti perché se non sbaglio era scusa era una usanza dei cananei di primogeniti dalle usanza degli israeliti c'è scritto nella Bibbia a quello di di sacrificare di sacrificare primogeniti al dio no 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 a Yahweh che loro eroi ecco pronto sì sì no no vai avanti e beh penso che Giosia il re Giosia siccome a un certo punto non si poteva più reggere questo confronto diede l'opportunità ai israeliti di riscattare con del denaro questi primogeniti che venevano concessi al tempio e li riscattavano con del denaro questa è la prima osservazione che volevo fare e dire che il monoteismo nasce dopo la cattività babilonese quando la Bibbia viene riscritta sui codici di Leningrado la parola Dio non esiste perché gli ebrei non hanno neppure il vocabolo per dire Dio loro parlano sempre solo di Elohi la Bibbia dei codici di Leningrado parla sempre solo di Elohi che potevano essere quelli degli ebrei quelli degli ebrei quelli degli amaleciti e quelli di tutti quelli che c'erano sul territorio come dico sul territorio in più parlando dei codici dei sumeri i sumeri non parlano di comette i sumeri parlano di 5 bombe di distruzione di massa che usarono quando colpirono la Pentopoli quindi Sodom e Gomorra e le altre tre città che poi ovviamente era perché loro volevano cambiare un'alleanza passare dall'alleanza con gli Alec con un altro Elohim poi qui chiudo e buona giornata a voi grazie Giancarlo grazie tanta carne al fuoco qua veramente allora prego allora ovviamente dopo il re Giosia viene imposto il monoteismo su l'Elohim quindi questo che ha detto è fondamentalmente giusto ma Giosia dovete uccidere tutti i sacerdoti del culto di Baal che c'erano in quel periodo quindi ma poi pensate che Salomone Saul re Davide i templi che eressero erano templi che eressero al dio Baal al dio sole Baal non a Yahweh che era un dio minore fino a quel periodo perché loro poi tra l'altro erano appartenevano alla stessa discendenza da parte di Mosè di Aron di quei personaggi lì per quanto riguarda la caduta di Babilonia quindi e la deportazione degli ebrei stiamo parlando del periodo successivo subito successivo al re Giosia perché furono liberati da Ciro il Grande nel 537 avanti Cristo mentre nel 587 mi sembra vennero imprigionati da Nabucodonosor questi personaggi a Babilonia tra l'altro Gesù apparteneva proprio a uno di questi sommi sacerdoti che fu liberato da Ciro il Grande e che si chiamava anche lui Gesù padre di Gioacchino da lì siamo arrivati fino a Erode il Grande e a Gesù poi non mi ricordo l'altra domanda che ha fatto sui testi sumeri no ecco no allora sì a parte anche sulla sulla distruzione di Sodoma e Gomorra che furono delle bombe erano delle città non appartenevano assolutamente a li hanno resettato spieghiamo tutto nei nostri libri Sodoma e Gomorra erano due città della terra di Sumer che furono distrutte quell'evento poi fu della distruzione della cometa fu postdatato successivamente al tempo di Abramo ma ricordo che anche lì abbiamo resettato completamente con i nostri studi le date perché di Abramo non parliamo del 2000 avanti Cristo ma la famosa battaglia di Megiddo ci fu nel 1457 avanti Cristo da parte di Farsata Tarre o Tare padre di Abramo come furono distrutti Sodoma e Gomorra cosa? come furono come furono distrutti Sodoma e Gomorra le altre tre città erano due di quelle città distrutte dall'asteroide dalla cometa Barca scusami e quell'evento fu poi usato postdatandolo successivamente su queste due città per punire personaggi che erano andati contro le decisioni di Dio eccetera 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 per questa datazione noi abbiamo usato come siamo arrivati a datare tutto quanto il famoso reperto archeologico ritrovato a Ninive il Planisphere Tablet dove questo astronomo Sun descrisse la caduta raffigurò la caduta di questa cometa con tutte le costellazioni le stelle in quel periodo e attraverso proprio le raffigurazioni delle di tutte le le costellazioni in quel periodo gli scienziati sono riusciti a stabilire la con precisione la datazione di 29 giugno del 3123 avanti Cristo ok andiamo avanti do la parola a l l tocca a te ciao buongiorno dove chiami ciao buongiorno si io chiamo dalla provincia di Trieste e si allora voglio un attimo trasportare invece il così il discorso al mondo romano e quando ci sarebbe stato diciamo questo innesto no mi sembra di aver capito leggendo appunto dei testi anche ascoltando insomma dei dei video appunto di De Angelis c'è stato questo incrocio in un certo senso tra le istituzioni romane e personaggi che hanno in qualche modo insomma trasportato credenze insomma appunto questa nuova religione che bisognava creare diciamo così all'interno appunto del mondo greco romano e mi chiedevo siccome è un fatto accertato che soprattutto a Roma ma diciamo anche nel Lazio no sotto le chiese ma forse è una cosa che riguarda un po' tutte le chiese insomma diciamo quindi non soltanto nella zona chiaramente del Lazio è accertato che ci siano dei sotterranei anche scavati a una certa profondità diciamo sotto queste stesse chiese dove si scoprono altri altari no cioè non dedicati insomma al dio cristiano di Roma ma al culto di Mitra sì il culto di Mitra esattamente che io so che era molto diffuso nel mondo romano ed era anche sì non era autoctono in un certo senso proveniva comunque dal mondo dal mondo persiano ma si era mescolato bene insomma anche perché c'era un collegamento con un altro dio dei romani insomma che era il dio Marte no quindi c'era anche tutto un culto dedicato proprio insomma alla classe dei guerrieri un culto interno proprio a questa stessa classe per cui venivano iniziati con tutta una serie di rituali appunto a questa divinità diciamo così no un culto misterico ecco in un certo senso al dio Mitra questo Mitra ha delle diciamo somiglianze insomma con anche il mito perché per me è un mito insomma del Gesù cristiano no quindi viene immaginato a parte la solarità quindi è comunque un culto solare anche di Mitra le raffigurazioni bizantine di sempre sì e volevo capire questa cosa perché comunque Mitra appartiene in un certo senso al mondo cristiano voglio dire persiano no quindi non ha poi tutti almeno io forse non li so io insomma tutti questi collegamenti con il mondo invece degli israeliti o diciamo genericamente col mondo ebraico no mi sembra siano tradizioni differenti ecco poi forse sono io che appunto non conosco collegamenti anche storici fra queste diverse civiltà insomma e quindi volevo capire questa cosa posso dire una cosa io intanto che intervengo allora così anche Alessandro lo sa io provengo dal nord al nord molte chiese la maggior parte delle chiese costruite dopo prima dell'anno 1000 ce ne sono ancora molte sono costruite sotto sopra delle aree pagane quindi era proprio al nord era una cosa molto normale che costruissero una chiesa soprattutto magari dove c'erano zone dove facevano riti celtici al dio Taurus eccetera anche nella mia zona ma questo anche nella zona dove sono io che comunque io non sono originaria di qui però parlavo proprio di cunicoli sotterranei scavati anche a una certa profondità come se fossero quasi delle altre chiese solo sotterrane qui da noi per esempio diciamo non distante da Trieste esiste appunto facendo tutto un percorso anche abbastanza impervio e solo visita guidata con pochissime persone esiste addirittura un tempietto di Mitra che era stato costruito all'epoca insomma del passaggio appunto di legionari romani quando diciamo dovevano conquistare insomma parte del zona dell'Alto Adriatico quindi non solo questa zona qui ma anche chiaramente l'Istria la Dalmazia eccetera quindi esiste questo tempietto dedicato proprio al culto di Mitra ed è una cosa quasi unica non c'è neppure non è stata costruita una chiesa perché hanno scavato praticamente questa sorta di chiesa sotterranea all'interno di una specie di grotta ecco quindi si arriva facendo anche un percorso abbastanza impervio e scendendo abbastanza profondità però so che questi Altari a Mitra si trovano spesso sotto anche chiese importanti se non sbaglio anche sotto la stessa chiesa di San Pietro ecco lasciamo adesso lasciamo parlare adesso lasciamo rispondere Alessandro interessante questa cosa grazie sì allora per chi vuole approfondire tutta questa parte qui consiglio di leggere il libro La famiglia di Yahweh dove poi praticamente facciamo vedere come questi personaggi cambieranno continuamente nome per arrivare poi con nomi diversi nelle varie altre civiltà che si svilupperanno il culto di Mitra eccolo qui il libro La famiglia di Yahweh dove tra l'altro in questo libro per la prima volta sveliamo con prove chi era questo Yahweh culto di Mitra un culto solare anche Gesù nelle raffigurazioni bizantine era raffigurato sempre con il sole intorno alla testa e altri non era sempre che lo stesso personaggio il dio Balleon o Nibrod tra l'altro era il culto più in auge tra i militari romani Stefano questo penso che lo sai e con quando Cleopatra si mise con Ciglio Cesare Cleopatra tentò di stocanare il culto di Iside a Roma senza riuscirci tra l'altro perché prevedeva dei periodi di astinenza sessuale periodi in cui gli uomini non potevano avere rapporti sessuali con le donne quindi non fu ben accetto da parte del popolo proprio per questo motivo il culto più importante era proprio questo culto di Mitra che stiamo parlando sempre dei stessi personaggi che subirono questo processo di verificazione che cambiarono nome Moloch Bal Mitra tutti questi culti solari derivano tutti dalla deificazione di Nimrod colui che costruì la torre di Babele deificato come Bal Adad è per questo che noi ritroviamo poi tutti questi culti in varie altre religioni dove che sono apparentemente diverse da quelle del cristianesimo il cristianesimo anche è una religione legata al culto solare l'ossia rappresenta il sole ragazzi non è che rappresenta qualcos'altro ne abbiamo già parlato di di tutto questo no quindi qui a Tivoli se tu ci sei stato penso a Villa Adriana ugualmente l'imperatore Adriano ha costruito il culto di Mitra importante quando Adriano disse che i cristiani sono gli adoratori del culto di Serapide ma attenzione perché anche su Serapide troverete questo nei nostri studi è stato fatto un sincretismo tra il dio toro api ma ritroviamo il sole poi in mezzo alle corna di api quelle corna ragazzi mi sembra abbia fatto riferimento anche a un culto taurino prima perché vennero di figa di questi animali soprattutto cornuti perché le due corna rappresentano che cosa rappresentano la coda della cometa Bach che si sdoppiò in due parti con il sole al centro che si oscurò la luna che si oscurò ritroviamo tutti questi simboli collegati sempre a quell'evento di cinquemila anni fa quell'evento catastrofico ma diamo la parola Andreina ah scusa stiamo raffinando l'imperatore Adriano disse i cristiani sono gli adoratori del culto di Serapide in Serapide è stato sincretizzato anche Yahweh e poi troverete tutto lo studio di questo qui nel libro oltre il velo di Iside allora Andreina e poi si prepara Dario poi chiudiamo Andreina buongiorno da dove chiami Andreina non ti vedo più allora Dario allora Andreina non c'è Dario nemmeno un attimo che controllo allora un secondo allora non ti vedo non vedo né Dario ne Andreina la vede eh che sei ciao Dario ciao buongiorno adesso si ti sento buongiorno sono Dario della provincia di Varese ciao avevo aveva alzato la mano in precedenza per era per rispondere alla domanda quella del monoteismo però ne approfitto per chiedere ad Alessandro si può rispiegare la sua visione su Nibiru perché avevo avevo capito che non lo vede come pianeta ma città era la città di Nippur Nibiru nei testi di rinamentazione chiamata la città di Nibiru Nibiru Nippur quindi il famoso decimo pianeta altri non era che la città di Nippur una delle città stato della terra di Sumer tutto qui ecco Andreina se ci sei io ti vedo Andreina però devi premere sul pulsante blu allora Alessandro siamo in chiusura e io voglio dirti una cosa a quanto ho capito l'hai già detto nelle prime puntate chi sta facendo video e sta avendo tantissime visualizzazioni sta facendo molti proseliti sulla teoria che l'uomo deriva da una forma aliena che è arrivata dallo spazio l'ha colonizzata e ha fatto i primi esperimenti di ingegneria genetica non è altro che un cavallo di troia per portarci al trasumanesimo esatto per sdoganare l'eugenerica che fa parte del progetto dei fabbiani 1884 ma guarda io adesso ho subito blocchi continui da parte di facebook per aver fatto un post mi hanno bloccato per tre mesi post in basso non posso fare dirette niente per aver fatto un post dicendo attenzione perché la teoria degli alieni creatori serve per sdoganare l'eugenetica del progetto Davos del World Economic Forum bloccato ragazzi bloccato trovami qualcuno di questi gruppi di questi ufari che vengono bloccati non vengono mai bloccati allora questo questo mi lascia effettivamente molto perplesso perché io ho notato che negli ultimi anno anno e mezzo veramente sono prolificati questi canali di informazione dove appunto parlano di essere provenienti dallo spazio c'è anche uno famosissimo che ottiene migliaia migliaia centinaia di visualizzazioni che tra l'altro sono visualizzazioni che rendono anche economicamente quindi cosa vuol dire vuol dire che se uno fa 100-200 mila visualizzazioni fa un video alla settimana giù di lì riesce a guadagnare anche 6-7 mila euro al mese da youtube e come mai non vengono questa non è disinformazione come mai non vengono bloccati dai famosi fact checkers ma veramente ne stanno nascendo tantissimi io su youtube mai quando li chiamo a confronto pubblico scappano tutti e non accettano non lo so ma questa è una domanda interessante allora Alessandro io non è che spezzo una lancia a tuo favore perché io prima di conoscerti anch'io strizzavo un po' diciamo strizzavo l'occhio a queste teorie però effettivamente queste persone che fino a po' di anni fa erano messe a margine della società nessuno li invitava dei confronti pubblici eccetera adesso sono ostili a entrare in contatto con te io sto parlando alta voce non è che io adesso mi sono schierando con Alessandro De Angi cerco di capire capisci è diverso io non è che facendo le difese di faraoni succhianime di faraoni che vivono tremila anni cioè noi no ma sai che cosa Alessandro il primo faraone che compare è il faraone Narmer tremila cento avanti Cristo una ventina di anni dopo la caduta della cometa Barche perché la terra era affidabile e andarono in Egitto il problema che tu parli con uno il sottoscritto che all'età di 15 anni ha letto il Charles Berlitz Il triangolo maledetto e da lì ha iniziato a leggere di tutto Peter Colosimo Salo dell'astrologo ricordi Il polvere di stelle quindi io questa tematica la conosco ne ho 58 quindi da 40 anni e ho letto di tutto di tutto su questa e mi ricordo che era assolutamente vietato parlarne di questo tema ma ultimamente nell'ultimo anno e mezzo stranamente se ne può parlare tranquillamente non si ha censura non si viene passati per terrapiattisti anzi si viene invitati anche in Rai ma è una mia considerazione per carità io non andiamo andiamo anche oltre Bergoglio che attacca la figura di Gesù il Dalai Lama che bacia succhiando la lingua a un ragazzino perché devono sdoganare tutto non so come faranno ad attaccare l'Islam devono sdoganare tutte le religioni per promuovere la nuova religione il nuovo ordine mondiale proprio su questi alieni creatori questo stanno portando avanti loro come progetto se no poi alla luce ma ora io le sto rinflettendo a alta voce alla luce anche degli ultimi fatti negli Stati Uniti l'anno scorso è stata creata in seno al Pentagono e alla NASA delle commissioni per lo studio di non li chiamano più UFO li chiamano maledizione non mi ricordo adesso il termine vabbè non chiamano più UFO e quindi proprio il Pentagono la NASA anche il congresso ha istituito queste commissioni e un po' di anni fa veramente era assolutamente impensabile una cosa del genere tutti si mettono a parlare di avvistamenti poi andando al concreto però c'è poca ciccia e quindi mi lascia molto dubbioso questa cosa di questa apertura da parte è tutta è tutta tecnologia dei nazisti a me mi hanno bloccato proprio per aver parlato di questo su Facebook è tutta tecnologia dei nazisti il nazismo fu sfinanziato dai sionisti ragazzi tutti quegli scienziati e la tecnologia furono poi ripresi dagli Stati Uniti portati avanti gli esperimenti col Majestic 12 di questi UFO nazisti nell'area 51 lì hanno sviluppato queste tecnologie ma dovevano coprirle come le hanno coperti con gli alieni con esseri che vengono da altri mondi allora qui stiamo andando su altri viaggi di milioni di anni luce per fare crash e cadono ecco questo è un italiano bellucci in mezzo alla costruzione di un UFO nazisti ci sono ecco allora però aspetta vorrei spiegare vorrei spiegare questa cosa altrimenti le persone si perdono quello che sta dicendo Alessandro è una parte di verità nel 1938 39 i nazisti i tedeschi erano avanti di 30 anni tecnologicamente dagli americani nel 37 38 avevano già creato il primo prototipo di aereo a reazione quando ancora l'esercito americano aveva i biplani non sto scherzando ma tutta la tecnologia tedesca era avanti 20 e 30 anni e nel 41 avevano fatto i primi esperimenti si dice sulla lievitazione cioè sulla possibilità di creare degli aerei anziché a reazione lievitassero però l'unico modo per farli lievitare era dare una forma circolare queste non sono teorie fantascientiche qui ci sono anche prove documentali documenti giornali abbiamo portato tutti i documenti segretari della CIA nel nostro libro di questi UFO nazisti ragazzi ne parliamo qui abbiamo tutte le documentazioni abbiamo riportato di quello che stai dicendo e poi io ricordo però maledizione non riesco più a trovarlo ma sarebbe interessantissimo allora un attimo e ricordo che avevo letto nel 2013 quando i russi avevano desecretato i primi file degli anni 40-50 avevo letto era in inglese però era molto interessante si capiva su uno studio proprio dell'allora KGB su ritrovamento di alcuni progetti di questi non li chiamiamo UFO perché UFO vuol dire oggetto volante non identificato di questi avvioggetti tedeschi germanici e beh sì allora dai mod studio chiudi tu però però adesso dobbiamo chiudere che siamo già addirittura le due dieci oltre dai mod studio veloce ciao buongiorno ciao mi senti ciao buongiorno buongiorno voglio un paio di cose allora prima è sulla creazione sulla nostra creazione siccome io penso alla reincarnazione no comunque anche se degli esseri da fuori creano qualcosa creano solo la parte materiale noi siamo parte spirituale noi siamo questo corpo quindi ci può stare non è che cambia tanto alla fine anzi per me è plausibile la cosa è molto plausibile dal momento che stai manca il famoso anello mancante quindi può anche essere non è che mi cambia a me il fatto che comunque ci sia una persona suprema nel mio caso io credo il krishnak la seconda cosa che è correlata penso che appunto essendo anime spiriti eterni ci rincarniamo più volte così come delle personalità molto influenti fanno come per esempio Mitra e Gesù potrebbero essere la stessa personalità che si è incarnata in epoche diverse tutto qui siamo al solito problema l'onere delle prove spetta sempre a chi fa affermazioni perché altrimenti possiamo parlare di tutto e di più io posso dire il creatore di tutto quello che esiste è l'asino che vola invisibile se qualcuno riesce a dimostrare il contrario tanto è invisibile l'asino che vola cioè ragazzi noi possiamo dire di tutto ma quando noi portiamo avanti degli studi li portiamo avanti attraverso un lavoro interdisciplinare fatto con la comparazione di documenti prove archeologiche l'etimologia un'analisi è comparata di tantissimi documenti altrimenti tutto quello che diciamo non avrebbe nessun tipo di valore ed è per questo che le persone rifiutano di fare un confronto con il sottoscritto perché se ci vengono a parlare di faraoni succhiani che campano 3.000 anni che le piramidi sono state costruite 36.000 anni fa appoggiandosi a manetone tutte queste cavolate noi gli portiamo immediatamente le prove del fatto che le prime forme di scrittura le prime costruzioni di fango in mattoni sono nella terza fase di Nakada 3 nel 3.100 avanti Cristo prima non esisteva niente in Egitto esistevano solamente pastori nomadi stop la storia si fa attraverso documenti proprie archeologiche un lavoro interdisciplinare non attraverso altrimenti tutti diciamo tutto io penso che io penso che poi rimane io penso che qui io posso dire io penso te penso che però chi studia questi fenomeni deve portare delle prove tutto qua certo anche perché io adesso te lo dico tanto 5 minuti dammeli a me dai 5 minuti io non so c'è anche del progetto ma allora se mi dai 5 minuti io mi sono occupato mi sono occupato dal 91 al 94 ho fatto parte del CISU Centro Italiano Studi Ufologici che forse è l'unico centro molto critico sugli avvistamenti degli UFO io avevo anche intervistato la Rosa Lotti Dainelli del famoso avvistamento del 1954 prima novembre ma cosa veniva fuori dagli studi che facevamo anche su casi passati e che l'85 90% erano delle bufale poi rimaneva un 10% che però non si capiva bene quindi diversamente da altri studiosi io per quegli anni sono stato uno studioso avevo anche avevo anche creato un manuale di metodologia di analisi ufologico come raccogliere prove ma non erano di quelli che credeva nell'esistenza degli UFO erano di quelli che cercava di capire se le segnalazioni che erano state che venivano fatte e allora non ce n'erano molte più che altre erano quelle storicamente passate erano veritieri o no ma la conclusione veramente il 90% erano tutte delle bufale cioè noi quando vediamo un oggetto in aria è sempre un UFO se non lo identifichiamo come facciamo ad identificarlo? Dal rumore se è un aero o dalla luce ecco ricordo poi chiudo la famosa ondata degli UFO nel 1989 in Belgio quando ne parlarono anche i giornali di questi oggetti volanti invisibili radar che si vede di forma triangolare venne fuori dopo dopo la guerra del Golfo che erano i famosi stealth gli aero invisibili tedeschi bombardieri e gli americani li stavano testando nella difesa Nato capisci? quindi però allora le prove dell'esistenza degli UFO questi oggetti che erano invisibili a radar ok ma stiamo siamo usciti un po' dal seminato però è importante fare no siamo sempre nello stesso seminato non siamo usciti fuori io voglio la prossima volta se sei d'accordo facciamo un approfondimento su questa tematica e facciamo intervenire il pubblico perché ad esempio la persona che è intervenuta dalla Spagna no ragazzi non posso più dare la parola a nessuno la persona che è intervenuta dalla Spagna prima se non sbaglio era Elisa che però ha passato Giancarlo io credo che lui sarebbe interessante parlare con lui perché lui è un assertore a quanto ho capito un po' della dell'alienità dell'uomo lui ha parlato della distruzione di Sodoma e Gomorra e delle altre tre città dovute a una bomba atomica qualcosa del genere quindi sarebbe bello anche misurarsi con persone come loro che hanno poi magari ci sono delle prove una cosa che mi ha lasciato veramente interdetto quando tu hai parlato della vetrificazione in alcune città della Mesopotamia io ricordo nel mille ho una memoria veramente forte ragazzi il tablet mi sta abbandonando quindi probabilmente in chat tra un po' non mi sentirete più quindi non posso mettere neanche il power bank per la ricarica perdonatemi comunque concludo velocemente nel 1982 io leggevo il quotidiano scientifico Focus te lo ricordi era uscito un articolo interessante dove mi parlava di una città in Mesopotamia di cui non ricordo forse era Urra non mi ricordo avevano trovato sotto varie strati di sedimento datato mi sembra intorno al 5000 a.C. della sabbia vetrificata e dicevano che era possibile solo esclusivamente se ci fosse stato un'emissione di calore tipo una esplosione nucleare e tu invece mi parlavi della cometa ma anche nel deserto sono state ritrovate tracce di vetrificazione della polvere del deserto perché quando passano questi asteroidi ne passano tantissimi con lo svilupparsi di altissime temperature e pressioni viene vetrificato tutto quello che c'è sotto al loro passaggio questo non viene mai detto da parte di queste persone capito lì facciamo riferimento a Rapp e Moen Giudaro a Davenport che fu il primo a dire ci sono state battaglie delle guerre atomiche diecimila anni fa rifacendo il famoso Maravati di Mana del Maravati poi Mani Cacciastra tra l'altro è stato scritto nel 1952 da un contattista che diceva di essere in contatto che gli ha detto che quindi già esistevano gli aerei a motore di tutto e di più va bene allora è serio che abbiamo tirato la lunga oggi veramente abbiamo quasi finito il libro oltre il velo di Isida invece inizieremo a parlare poi anche di Cleopatra madre di Maria ok va bene d'accordo allora ci sentiamo tra due settimane concordiamo la puntata ciao a tutti grazie a sempre grazie ciao grazie ragazzi scusate adesso purtroppo in chat di Telegram si è spenta il dispositivo si è spento quindi abbiamo perso la connessione saluto le persone erano in tante sulla chat di Telegram e quindi adesso vi saluto però come sempre prima di lasciarvi vi ricordo se siete soddisfatti del nostro lavoro potete aiutare il nostro canale che fa informazione libera ed indipendente più di così ragazzi non so cosa possiamo fare potete andare sul sito www.beciolininetwork.com menu sostienici da Stefano Beciolini questo è tutto un saluto domani mattina al punto di vista del sabato e come sempre no la guerra si alla vita ciao Alessandro ciao grazie a tutti 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 Grazie a tutti.